carissimi amici e amiche bentornati nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato a tenera amata e oggi apriremo un capitolo nuovo con inedite ed ulteriori sorprese rispetto a quelle che già abbiamo incontrato e che come sempre richiedono mente aperta e cuore disponibile io ribadisco e ripeto perché sapete i riscontri che arrivano su questo ciclo di catechesi come voi immaginare sono di un duplice genere persone entusiaste ed estasiate e persone che evidentemente non avendo capito alcune cose e ragionando con gli schemi mentali di certe loro idee che si sono fatte del cielo o di altre realtà anche della terra non riescono evidentemente a entrare in certe cose non le riescono a comprendere e quindi ne restano scandalizzati è la stessa identica cosa che capita con gli scritti della serva di dio luisa piccarreta tale e quale ed identica e anche di altre realtà analoghe no tipo anche la stessa maria valtorta io penso che sia abbastanza normale perché le cose che vengono dal cielo producono sempre questi effetti non deve non deve stupire basti pensare insomma alle reazioni prodotte da nostro signore gesù cristo insomma no quindi che la maggioranza poi è purtroppo per lui evidentemente per quanto riguarda la sua esperienza terrena furono la stragrande maggioranza negative non positive questo perché è difficile vi ricordate quando ci dice figliolico ma è difficile entrare nel regno di dio no ecco anche al migliore della messa di oggi non si entra nel regno di dio se si rimane ad una giustizia improntata a quella degli scrivi dei farisei attenzione scrivi farisei buoni non gli scrivi farisei ipocrichi va bene quindi fatte queste premesse ci addentriamo in uno step ulteriore quindi uno capitolo ulteriore che ce lo lasciamo introdurre da tenere la mata stessa perché quindi chi c'ha da scandalizzarsi con questo capitolo si scandalizzerà ancora di più chi invece ha il cuore aperto trarrà motivi di ulteriori gioie soprannaturali come ultima cosa siamo al capitolo 26 mi disse tenere amata se sei d'accordo andremo a trovare bianca il tuo amore numero due abita qui vicino in via galeana ricordi ci trasferiremo rapidamente all'anno 1927 e ci ubicheremo in uno spazio tempo opportuno voglio che osservi il potere dei beati sugli spazi tempi del loro organismo integrale conservati fedelmente nella quinta dimensione attenzione a questa espressione potere dei beati sugli spazi tempi del loro organismo integrale spero che queste nozioni arrivati ormai al capitolo 26 siano chiare perché se non sono chiare dobbiamo fare un po di ripasso no sappiamo bene che il tempo non scorre mai in maniera indipendente dallo spazio perché adesso sono le 21 e 47 del 3 marzo 2023 certo ma io mi trovo a sermoneta davanti al mio computer dove sto facendo questa diretta non mi trovo altrove quindi il mio tempo attuale si svolge rigorosamente qui questo non c'è nessun dubbio sono qui e non altrove quindi lo spazio tempo che va in questo momento costruendo la mia eternità creata in questo istante è questo ora però se si spera un giorno lontano dopo tanto purgatorio ma speriamo diventerò beato io potrò tornare in questo spazio tempo conservato nella quinta dimensione ed esercitare un potere adesso vedremo quali chiaro questo qui perché se non è chiaro questo è inutile che andiamo avanti perché dopo diventa difficile seguire no riccardo ribatte facendo delle considerazioni era favoloso viaggiare attraverso l'eternità creata quanto mi sarebbe piaciuto sentire le tremende accelerazioni o decelerazioni immaginate che spettacolo quando perché tenenamata ce la porta istantaneamente quindi non gli fa sentire il brio del viaggio nello spazio attraverso gli spazi tempi quindi attraverso la quinta dimensione ce la porta istantaneamente quindi già miracolo ce la porta però non c'è il brivido dell'accelerazione e della decelerazione specialmente a chi piace correre dovrebbe essere una cosa abbastanza interessante no vabbè la mia incantevole amica sfiorò ancora una volta con le dita il dorso della mia mano neanche allora seppi come avvenne e quando mi resi conto stavo insieme a lei di fronte alla casa di Bianca in quell'istante del nuovo paratempo Bianca stava uscendo e non finiva di chiudere la porta la si vedeva immobile con una come una delicata statua infantile Bianca era nel 1927 un'incantevole fanciulla bionda dai grandi occhi colore caffè molto scuri appariva graziosa ma non come la mia bella defunta mi aveva entusiasmato molto a quel tempo ma al presente la trovavo troppo bambina ricorda disse tenera amata che la frequentasti quando aveva appena 12 anni la stessa età tua osservala con calma già sappiamo che non può vederti Bianca era stato il mio secondo amore o il terzo nei miei ricordi appariva bellissima e attraente adesso però la vedevo come una graziosa ragazzina che bene avrebbe potuto essere per me una nipotina quanto cambia l'essere umano dentro e fuori il mio appassionato amore infantile era diventato una placida tenerezza di nonno è chiaro che la presenza fisica di questa bambina evocava fortemente i miei ricordi infantili di lei ma adesso non potevo più amarla come nella mia infanzia che? non ti piace più? disse tenera amata con un'aria scherzosa nel suo sorriso ma risponde Riccardo stando con te nessun'altra donna riesce ad attirarmi non mi rimane altra capacità d'amare e non esagerare gli risponde tenera amata se in qualche cosa sei molto ricco è nella tua potenzialità di amare è infinita quello che succede è che l'amore tra i viatori attenti eh nonostante sia molto ampio e potente è sommamente debole nel suo esercizio non riesce a suscitare tutto il vigore che contiene per quanto il mortale si suggestioni del contrario è perché l'amore terreno si esercita soltanto nel fugace spazio-tempo dell'istante attuale quando scoprirai la sesta dimensione ti sentirai annientato davanti alla vigorosa intensità dei piaceri celesti ho già avuto modo di dire questa è la seconda volta che compare che ho letto sei o sette volte sto libro ma sta sesta dimensione io non sono riuscito a trovarne la descrizione nelle letture precedenti chi lo sa che avvenga il miracolo che ci riuscirò mentre mentre ne parlo con facendo queste fraterne condivisioni no nessun oggetto d'amore di qua è capace di soddisfare la sete infinita di amore e di felicità che contiene il cuore umano questo tutti quanti più o meno lo percepiamo ma qui non c'è niente in questo mondo che possa soddisfare la nostra sete infinita di amore e di felicità lo stesso succede nella patria con l'amore creato non invece con la visione beatifica che è pienamente appagante ma se mi posso permettere questo forse tenere l'amata essendo vissuta nel matrimonio e non nella virginità forse non ha avuto coscienza nella vita terrena ma era la stessa cosa anche qui solo se si entra in un rapporto profondo ma proprio profondo profondo con Dio il che significa anche anche non solo ma anche vivere nella divina volontà si comincia a sperimentare l'appagamento e la felicità un principio almeno cioè la percezione che non si potrebbe chiedere niente di più dalla vita terrena ma fino a quando l'uomo cerca il suo amore nelle creature e attenzione questo possono farle anche le persone devote anche le persone che vanno ammesso d'accordo perché Gesù dice una cosa fondamentale là dove è il tuo tesoro là sarà anche il tuo cuore vuoi sapere qual è la cosa per te importante il cuore è la serie dei pensieri nella sacra scrittura e attenzione ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore canta la nostra regina nel Magnificat quindi vuoi sapere dove è il tuo cuore a che pensi durante la giornata quando noi siamo innamorati che succede non pensiamo a nient'altro dalla mattina alla sera a nient'altro può succedere questo con Dio ha voglia che può succedere questo con Dio ha voglia felici coloro che che sanno che può succedere questo con con Dio con Gesù con la Madonna Gesù è Dio ma intendo Dio come la Santissima Trinità poi le devozioni personali sono infinite sono dei santi che erano molto devoti del Padre altri dello Spirito Santo la maggioranza dell'umanità Santissima di Gesù alcuni santi specialmente maschietti che erano completamente rapiti solo al pensiero della Madonna quindi dipende quello che resta è che nessun oggetto d'amore di qua è capace di soddisfare la sera infinita d'amore e di felicità che contiene il cuore umano e lo stesso succede nella patria salvo per quel che concerne la visione beatifica per questo è assai molteplice l'amore dei beati nella loro gloria accidentale qui sta ribattendo a Riccardo che dice adesso c'è davanti a te e non posso amare nessun altro ma no no non è così per questo attenzione adesso a questo passaggio è assai molteplice l'amore dei beati nella loro gloria accidentale naturalmente questa molteplicità aprire bene le orecchie specie per quelli dallo scandalo facile sapete quanta gente si scandalizza perché dice ma no c'è il matrimonio come è possibile che sono stato sposato e poi c'ho tutti quanti questi amori tenera amata inneggia l'adulterio anche questo mi è arrivato come riscontro da qualche mail ma cioè dico vabbè dopo leggi bene ecco sentite questo passaggio naturalmente questa molteplicità non vige nel matrimonio cristiano che per volere divino deve essere esclusivamente monogamico arrivo al punto e su questo mi fermo perché c'è un motivo per questo ma nella gloria eterna ognuno si soddisfa nell'amore di carità di tutti gli altri non vi è dubbio che l'uomo è stato creato soprattutto per l'ammirabile società celeste in vano sulla terra cerca ciò che si trova soltanto nell'aldilà questo passaggio che non è un ampassane è fondamentale questa molteplicità non vige nel matrimonio cristiano che per volere divino deve essere esclusivamente monogamico allora in questo mondo non c'è la molteplicità degli amori non c'è la possibilità di sperimentare la multiformità dell'amore universale tra gli enti creati non c'è e qui per quanto mi riguarda non ho nessun dubbio c'è il collegamento con il ciclo di catechesi dell'anno scorso peccato originale e la sua dimensione sessuale l'ingresso della sessualità libidinosa perché questa è purtroppo nel rapporto tra uomo e donna perché c'è il matrimonio monogamico in questo mondo perché c'è il matrimonio monogamico ma perché queste cose che sono del cielo non le possiamo anticipare sulla terra perché per un motivo molto semplice perché è impossibile adesso vivere un amore di carità pura quindi di carità pura significa che prescinda dalla dimensione sessuale è impossibile perché c'è la concupiscenza tu puoi avere tutte quante le migliori intenzioni di questo mondo nessuno di noi è esente da questo nessuno e quindi nostro signore perché questa cosa fosse ristretta e limitata il più possibile e anche finalizzata al suo scopo che è la procreazione ha stabilito il matrimonio monogamico tu vivrai l'amore e quindi necessariamente nell'amore anche questa dimensione che non può in questa vita non essere attivata ma vi ricordate cosa ha detto tenere amata nell'aldilà esiste il sesso non esiste il sesso non c'è non c'è più questo lo dice Gesù nel Vangelo veramente prima di dirlo tenere amata nel famoso discorso che fa con i Sadducei sulla resurrezione della 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 carne quindi per quanto mi riguarda l'assenza della dimensione sessuale nell'altro mondo e la sua presenza in questo mondo spiegano totalmente già questo 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 punto perché qui no e perché di là sì perché Dio ha blindato il matrimonio rigorosamente monogamico eh attenzione spero di essere stato chiaro e con questo si capisce benissimo che tutto quello che dice tenere amata non contraddice minimamente né la disciplina del matrimonio cristiano né il fatto che bisogna arrivare vergine al matrimonio né il fatto che bisogna essere fedeli alla moglie e che non si può qui sulla terra andare divagando e fare i farfalloni neanche col pensiero a destra e a manca queste cose ci vengono rivelate non perché le cominciamo a vivere qui ma perché sappiamo quello che ci aspetta di là quando tutti quanti gli ostacoli che sono inevitabili post peccato originale in questo mondo saranno rimossi spero di essere stato chiaro spero quindi mi sento molto sicuro che ti sto amando con tutte le mie forze ribatte Riccardo ti sbagli dice tenere amata per insufficienza dei sensi vincolati vincolati al momento presente ancora vedete la coscienza del viatore non riesce a percepire in tutta la sua pienezza la bellezza delle persone delle cose attenzione un'altra cosa meravigliosa attenti a questo passaggio la percezione della bellezza dipende oltre che dalla natura del soggetto conoscitore dal suo stato soprannaturale l'uomo in grazia di Dio percepisce la bellezza meglio del peccatore notizia bomba questa qui sapete che significa quando uno non è capace di vedere le cose belle della vita di gustare anche le cose belle e lecite della vita di vedere le cose buone vita di grazia assente o tisica carente scarza ah io su questo sottoscrivo al 400% senza nessun dubbio e sentite cosa aggiunge ancora Teneramata la bellezza fisica e morale insieme alla bontà e al valore eternità è quello che più sollecita l'amore dell'uomo sia avviatore che glorificato la bellezza fisica e morale cioè la bellezza fisica la sappiamo tutti che cos'è cioè se una persona è esteticata fisicamente bella ma anche la statura morale la bellezza morale la bellezza interiore la nobiltà d'animo le virtù di una persona il carattere la personalità tutte e due ecco dice Riccardo ebbene quel poco a me sembra molto i miei occhi non avevano mai contemplato una bellezza come la tua e Teneramata gli risponde e pensa allora quanto groterai in cielo quando percepirai con tutta chiarezza i cinque grandi valori verità bontà bellezza unità ed eternità ed eternità abbiamo già parlato al suo tempo il quinto trascendentale dell'essere nessun filosofo l'avevo sentito dire prima di Teneramata forse i tre trascendentali classici erano l'uno il vero e il buono questo basta leggere San Tommaso ogni ente in quanto ente è uno è vero e buono la scuola francescana l'ho già detto a suo tempo giustamente percepiva anche il bello ogni ente in quanto ente in quanto ente in quanto uscito dalle mani di Dio è bello tutti gli enti in quanto usciti dalle mani di Dio ma come ci stanno dei mostri in giro che non è uscito dalle mani di Dio il mostro è qualcosa o qualcuno su cui si è scaricato qualche effetto negativo del peccato del mondo da Dio non escono mostri e i diavoli ma i diavoli sono tutti bellissimi sono diventati mostri non sono nati mostri Dio è bellezza suprema assoluta da Lui non escono cose brutte quindi ogni ente in quanto ente è bello quindi in quanto ente vuol dire in quanto creato da Dio ma ogni ente in quanto ente è eterno questo c'è mettere sopra tutti gli enti sono eterni non solo noi che siamo capaci di Dio e che avremo la vita eterna questo dovremmo averlo imparato ma tutti gli enti proprio tutti hanno il loro spazio di eternità consistente negli spazi tempi della loro esistenza che ne so quanto campa una quercia una quercia può campare pure una quercia gli ha detto bene insomma una quercia può campare pure centinaia di anni se non se non mi ricordo male no a differenza di un cagnolino che si deve accontentare dei 20 massimo un cavalluccio una trentina massimo ecco però quei 20 quei 30 non è che sono lui ha fatto la sua corsa è comparso nel tempo è nato è vissuto è morto e dopo che è morto non c'ha l'anima quindi paradiso non ci va un animale questo è ovvio è morto è finito that's not so simple abbiamo imparato non è così semplice anzi non è proprio così perché ogni ente in quanto ente è eterno e anche l'ente non intelligente non capax dei direbbero i classici non capaci di Dio è eterno allora pensa allora quanto godrai nel cielo quando percepirai con tutta chiarezza i 5 grandi valori verità bontà bellezza unità ed eternità nella più piccola beata nemmeno riesce il viatore a comprendere questi 5 valori che sono nascosti anche nella cosa più insignificante allora li chiama valori ripeto che tecnicamente questi in metafisica si chiamano i trascendentali dell'essere trascendentali dell'essere vuol dire attributi proprietà che ogni ente creato in quanto tale ha e non gli ritoglie nessuno perché dice Riccardo perché nessuno non riesce il viatore a comprenderli perché il disprezzo e la non curanza verso il nostro Dio hanno ridotto la vita mortale ad un attimo di prova in cui meritare il cielo questa è una frase da scriversi e da attaccarsela sopra il letto il disprezzo e la non curanza verso Dio hanno fatto diventare la vita terrena un attimo di prova in cui meritare il cielo non disprezzare le suppriche di noi che siamo nella prova c'è il paradiso perduto c'è l'Eden che ce lo siamo giocati e adesso la vita terrena non è altro che appunto un combattimento una prova in cui ci giochiamo la nostra sorte eterna salvezza o dannazione siamo pure in quaresima siamo questo ogni tanto bisogna ricordarselo perché si può stare un sacco di gente che mica se lo ricorda questo qui non è detto che andiamo tutti in paradiso io sarei molto contento se così fosse e di poter dire una cosa di questo genere ma una cosa di questo genere che oggi pare abbastanza diffusa non lo è mai stato nel corso della storia della chiesa mai anzi era diffuso ben altro la convinzione che la stragrande maggioranza anche tra i battezzati non ce la facessero a raggiungere la salvezza non ce la facessero leggete non mi credete leggete chi ha la pazienza e chi ha la capacità anche se si riesce a leggere i testi originali cominci a divertirsi un po' a andare dai dei padri della chiesa ai grandi scrittori santi mistici andate a vedere quello che hanno scritto se non credete a me che me ne importa a me di andare a dire una cosa del genere non sarei più contento di dire ragazzi prepariamoci qui ci stiamo leggendo il film che certamente vedremo tutti no non lo vedremo certamente tutti lo auguro di vederlo a tutti ma non è detto non è affatto detto quindi il disprezzo la non curanza verso il nostro Dio hanno ridotto la vita mortale ad un attimo di prova in cui meritare il cielo la patria è il luogo dove davvero si realizza l'amore di carità più o meno frustrato in questo mondo di peccato gli amori sono tutti quanti quasi tutti frustrati in questo mondo non si possono vivere frustrazione vuol dire una cosa che tu non puoi avere la desideri ma non ce l'hai perciò nella tua condizione di pellegrino tu non potresti sopportare l'immenso piacere di comprendere fino in fondo la verità di amare la bontà di godere la bellezza di usufruire tutto questo nell'unità e nell'eternità della cosa più insignificante per adesso la pienezza dell'essere rimane occulta a te nel più intimo delle sue viscere la lettura del libro di tenera amata deve farci prendere coscienza di un'altra cosa noi qui stiamo in una condizione misera la persona più dotta più intelligente non ci arriva a certe cose non ci non è che non ci arriva non ci può arrivare c'è un limite intrinseco abbiamo delle tare che non ce le possiamo gettare alle spalle fino a quando siamo qui è impossibile quindi è già un miracolo se dentro sto marasma riusciamo a incamminarci sapete quante volte mi fanno le domande anche in diretta succede qui con Telegram no ci sono alcune domande che non ci hanno risposta non ce l'hanno non siamo in grado di darla qui ed è normale che sia così perché qui stiamo in stato in stato interdizionis Riccardo ribatte e così dunque conosco le persone e le cose appena a profondità di periscopio per giungere all'essenza intima risponde Feneramata per forza avrai bisogno dello scafandro della glorificazione ma questo per esempio in particolare io adesso non lo so come funzionano le cose tra marito e moglie d'accordo perché non ce l'ho la moglie però per tanti anni quando ero giovane ho avuto la mia fiamma più grande penso che la conoscevo abbastanza bene ma non troppo perché la personalità profonda di chi ci sta vicino rimane nascosta a noi perché se non altro perché appunto prima non conosciamo tutti quanti i pensieri di chi ci sta vicino e punto secondo non conosciamo come loro percepiscono la realtà dal loro interno quindi e adesso dimmi torniamo al testo mi domandò con un sorriso più divertito che cosa le manca Bianca perché attualmente ti attiri tanto come nella tua infanzia già mi immagino ecco gli scandalizzatori quando sentono fare questa domanda dicono ma che razza di domande sono ti pare che un'anima beata in paradiso va a fare queste domande questi sono quelli che sono rappresentati il paradiso come un monastero di clausura un monastero di clausura un posto bellissimo per carità d'accordo ma il paradiso non è solo il monastero di clausura dove come dire nel raccoglimento nel silenzio assoluto si cantano le lodi dell'altissimo e si sta in silenzio e si prega e si lavora questo è il monastero di clausura qui è qui che funziona così perché qui non stiamo in paradiso qui stiamo in prova risponde Riccardo le vogli bene assai allora ricordo i miei sentimenti verso di Lemoji la vedo troppo bambina e sentite sentite tenere la mano capite anche quello che gli sta facendo vivere a quest'uomo e quello che gli vuole far capire ti piacerebbe contemplarlo a 23 anni? Ternammata non aspettò la mia risposta tornò ancora a vivificarmi quindi solita tocchetto con il dorso delle dita sulla mano e un'altra volta senza sapere come mi trovai insieme con lei nel cortile dell'università di San Luis Potosi era di mattina presto aveva piovuto e soffiava un vento freddo che penetrava nelle ossa ma era il freddo conosciuto differente dall'altro freddo strano che mi aveva molestato nei paratempi anche di questo ne abbiamo già parlato ci ubichiamo nel decorrere normale del tempo terresto passato mi disse tranquillamente senza importarle il forte inverno potosino siamo a dicembre del 1938 togli ti dalla pozzanghera dove sei in piedi e consulta il tuo orologio infatti il mio orologio segnava il tempo e ne sentivo il tic tac quindi stavolta si sono posti nel decorrere normale del tempo non sono andati in qualche paratempo non senti freddo le domandai vedendo il suo leggero vestito d'estate a dicembre sì ma non mi molesta anzi mi carezza già ti ho detto che il corpo dei beati è invulnerabile fino a noi arrivava il murmurio della città che incominciava a lavorare il rumore della scopa quando il vecchio spazzino passava l'acqua delle pozze alle lastre del cortile e vieno bagnate non ebbi difficoltà nel riconoscere Bianca che si avvicinava a noi si vedeva bellissima a ragione mi entusiasmava quando la trattai da bambina dopo non l'avevo più rivista per la bilocazione che poco prima avevo fatto nel mio corpo infantile avevo presenti i miei sentimenti infantili l'incipiente sentimento dell'amore la sua vehemenza la sua delicatezza la mia brama di tenerezza e l'ansia di proteggere e difendere la mia amata i miei desideri di comprensione e di amicizia Bianca si avvicinava a noi come un'autentica donna regale un perfetto monumento alla salute giovanile esattamente proporzionata nelle sue rotondità e ben sicura di se stessa il suo garbo evidenziava incapacità per qualsiasi tenerezza il suo portamento altero grazioso nel camminare ma pieno di sé manifestava mancanza di dolcezza la ingenua e tenera bianca era diventata un'attraente ed esuberante donna focosa passionale autoritaria radiosa e molto sicura del potere della sua bellezza mazza che analisi no? mi colpì il fatto che io fossi stato in grado di percepire tutto questo con un semplice sguardo mai prima ero riuscito in psicologia stavo forse confiando la mia valutazione adesso attenzione alla risposta no non esagere mi confermò tenera amata quel che succede è che ti sto comunicando l'immagine della vera personalità di bianca in questa data del passato capite? cioè sta facendo vedere a ricardo come la vede lei perché come la vede lei è come era in realtà in quel momento quindi la visione oggettiva a quell'età era una ragazza abbastanza vissuta ti piace ai suoi 23 anni? aggiunse col suo sorriso celestialmente ironico sta giocando sta tenera amata sta provocando se vogliamo sì naturalmente risponde Riccardo ma in modo diverso da come mi affascinò nella sua adolescenza pensai che l'anatomia e la fisiologia umana si giocano molti scherzi con l'aiuto di loro inseparabili compagni di gioco il tempo e lo spazio terra amata reinterviene dai se tu fossi capace di mettere e togliere come miglioreresti bianca per poterla amare con grande appassionato amore penso sempre agli scandalizzatori mi disse tenera amata a che prova vuole il sognare risponde Riccardo io so che l'amore ottiene il cambiamento di condotta di quelli che si amano ma non modifica la costituzione fisica nel temperamento della persona amata genio e figura fino alla sepoltura c'era un proverbio io non l'ho mai sentito questo qui sarà un proverbio messicano e tenera amata dice non essere pessimista rispondi rispondi alla domanda che cosa vuoi modificare non mi occorre pensare molto mi piacerebbe che conservassi la sua ingenuità di bambina unendola alla sua esperienza di donna e la sua cultura universitaria sì vorrei che in lei si armonizzassero non so come il suo candore infantile e la sua esperienza femminile ma senza finzioni preferirei che le sue gambe fossero meglio modellate e che i suoi occhi fossero come i tuoi ma non darmi retta sto chiedendo un cocktail impossibile rispondetene l'amata vedrai che non è impossibile per questo serve l'eternità creata basta ricorrere agli spazi tempi che conservano l'essere umano integrale nella persistenza vivente della quinta dimensione la cosa più naturale e frequente nel cielo adesso attenzione per ottenere cambiamenti nella personalità è sufficiente situare alcuni centri nervosi dell'organismo totale in un determinato ritmo del tempo nel frattempo altri nuclei di neuroni funzionano in diverse frequenze della quarta dimensione o sappiamo cosa sono i neuroni è meglio che lo dico i neuroni sono le cellule del cervello e del sistema nervoso ok quelli che stanno nel cervello e sono gli strumenti di comunicazione degli impulsi del cervello in tutto quanto l'organismo cioè ci serviamo degli spazi tempi e delle onde temporali come se fossero i nostri arnesi dominandoli anziché essere da essi dominati come succede a mortali in questo modo l'anima glorificata rende a suo piacimento il temperamento e il carattere che in gran parte dipendono dalle sinergie ormonali le ghiandole secernono i propri ormoni d'accordo con la nuova sistemazione dei centri nervosi qualcosa come se il tuo organismo integrale fosse di plastica lo modellassi a tuo piacere anche qui più una persona è competente quindi ha una conoscenza anche tecnica di queste cose e più capisce però qualcosa se ci si fa attenzione si capisce la premessa è il potere che l'anima beata ha sul suo organismo integrale in tutti gli spazi tempi quindi qui c'è un processo di anzitutto collocazione in diverse frequenze della quarta dimensione ok e al tempo stesso l'intercomunicazione tra diversi spazi tempi della vita terrena cioè come fa Bianca a ridiventare dolce come una bambina come diceva il candore infantile dentro la personalità altera e piena di sé di una 23enne va a pescare e a riadattare lo spazio tempo di quando era bambina ma come si fa a conoscere questa complicata fisiologia risponde Riccardo domandiamo al nostro dio risponde l'amata egli è desideroso di spiegarcela dal momento che vuole la nostra felicità accidentale e poi l'anima glorificata conosce molto bene la tecnica questo dominio dell'anima sugli spazi tempi dell'organismo totale attenzione dominio dell'anima sugli spazi tempi dell'organismo totale consente e beati di modificare diversi momenti dei loro corpi cambiare le fattezze acquistare nuovi e molto reali aspetti di bellezza ringiovanire aumentare o diminuire di statura di peso la complessione senza bisogno di supplizi in istituti di bellezza né trucco né diete né ginnastica bello eh qui per rimanere appena appena presentabili tutte ste cose amici poi tra l'altro ogni tanto si fanno le loro belle magnate con le succulenze celesti si bevono i cuori celesti senza problema che te fai la magnate e bevi e poi te devi appesare se ho due chiti di più il complesso materia energia spazio tempo eternità creata ci ubbidisce ciecamente senza possibilità di errore attenzione materia energia spazio tempo e eternità creata non solo che li ubbidisce ciecamente ma io immagino molte persone che ascoltano queste cose qui che magari come dire non hanno una cultura seppure perdono fa niente tanto quando arriverà l'ora ti sorprenderai perché queste cose pure se non le capisci adesso le vivrai poi te le ricorderai perché sicuramente te le ricorderai perché chi queste cose le ha sentite guardate non è la stessa cosa avere sentito o non avere sentito queste cose qui poi se tu dici ammazza quella volta ho letto te ne era amata Leonardo si è pure provato a spiegarlo un po' ma non ci ho capito niente ammazza è proprio così chi arriverà alla vita abbiata può stare proprio tranquillo che succederà questo ricorda che partecipiamo analogicamente all'onipotenza di China ricordate quando ogni tanto faccio un po' di ripasso quando Teneramata ha preparato il bocconcino succulento a Riccardo non usando gli ingredienti che si usano nelle alte cucine degli altri chef ma usando come strumento di lavorazione il cellofan del pacchetto di sigarette e là semplicemente l'ha mammocciato dentro le mani e quando quello non ci voleva credere non si era ammagnato si è leccato i baffi e gliel'ha spiegato come ha fatto dice ho soltanto alterato la composizione chimica ho lavorato sugli atomi sono poteri divini questi qua non possiamo farlo qui adesso capite io vorrei tanto per esempio riandarmi a ristudiare un altro un bel po' di chimica andare a vedere tutti quanti le basi tutti quanti i legami tutte quante quelle cose che c'è c'è un ricordo pachissimo di queste cose qua ma non è che lo farei per andare a deliziarmi un altro po' su tutto quello che si è inventato nostro signore e poi immaginarmi pure un po' meglio sapendo queste cose come si può tutto quanto rimanipolare tutto quanto remischiare reimpostare però non c'ho tempo ma studio pure la chimica non ci manca solo quella ci manca purtroppo no vabbè in questo mondo dice Riccardo tu lo sai ci attacchiamo all'immagine delle persone che amiamo vorremmo renderla eterna ci riempi di entusiasmo quando la troviamo bella e di tristezza quando va perdendo la sua freschezza oh grazie a Dio nel cielo non esiste la bruttezza e il cambiamento di aspetto è soltanto sulla linea della perfezione progressiva e senza limite deve essere fantastico cambiare fisionomia volontà come il nostro signore Gesù Cristo vedete che non fu riconosciuto dai discepoli di Emma tutti quanti che si cervellano non lo riconoscevano perché perché non c'avevano la fede e allora ma l'ho fatta pure io ste pratiche qui per carità no oppure 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 aspettate le persone vedete quando uno non capisce un tuborg la madonna oi a Guadalupe è apparsa con una maticcia a Anguera c'è capelli neri e gli occhi azzurri a Meggiugorie c'è i capelli biondi e e gli occhi verdini per dire no che ne so se uno sa queste cose c'è da stupirsi è chiaro che nella vita terrena se uno va a rivedersi come era fatta la madonna nella vita terrena ha certamente una sua conformazione e per quanto mi riguarda la madonna nella vita terrena come nostro signore aveva i capelli castano chiari molto chiari forse anche un pochino ramati o tendenti al biondo gli occhi azzurri certamente come Gesù evidentemente una statura perfettamente congrua per una donna sarà stata intorno a un metro e sessantacinque mani e piedi perfettamente proporzionati un corpo certamente statuario anche se non l'ha mai visto nessuno perché era certamente stupenda ma è chiaro che nella eternità creata ma se la madonna è bionda con gli occhi azzurri come ha fatto apparire a Juan Diego come una meticcia beh ecco a parte il fatto che anche non sapendo queste cose no cioè se uno entra in paradiso e partecipa ai poteri divini ma Dio può prendere e alterare evidentemente alterare non per distruggere ma per rielaborare qualunque cosa come vuole adesso sapere queste cose ti dà un input in più cioè noi non possiamo amici noi non possiamo in car cioè quando giudichiamo le cose sopra naturali amici cari meno le giudichiamo è meglio nel senso che prima di balbettare qualcosa dobbiamo aver molto ascoltato e molto imparato molto ascoltato e molto che ti metti a giudicare queste cose qui io veramente delle volte quando leggo certe mail faccio una fatica enorme perché sono ancora un peccatore a a non farmi venire i nervi perché sicuramente chi scrive non si rende conto di quello che fa ma che ti metti a fare questi discorsi ma che ti metti ad applicare le tue piccole limitate misere categorie umane a queste cose non lo fare no è completamente ridicolo quindi deve essere fantastico cambiare visionomia a volontà come il nostro Signore Gesù Cristo che non fu riconosciuto dai discepoli di Emmaus forse è l'istinto della gloria futura ciò che muove le donne a tingersi i capelli e a truccarsi speriamo che sia quello perdonatemi la battuta e non la vanità vabbè Teneramata dice incominci a balbettare il linguaggio celeste infatti il desiderio di perfezionarsi fisicamente e di cercare nuove forme di bellezza è un impulso dell'istinto della felicità futura che sospira di realizzare in questo mondo i costumi della pace questo non vuol dire che sia una cosa buona però attenzione questa è un'altra forma di sapienza cioè perché noi a meno che non c'è se siamo normali cerchiamo di apparire anche esteriormente decenti gradevoli rinunciare a questo è una mortificazione che uno offre con fatica con sofferenza per amore del Signore perché qui in questo mondo le mortificazioni hanno un grande valore agli occhi dell'altissimo ma anche se offro la mortificazione è appunto la mortificazione nel senso che io nel cuore desidererei rinuncio per offrire un sacrificio per amore del Signore no? Quindi e che cos'è questo desiderio? Anche se non lo metto in pratica per amore di Dio per mortificare la possibile vanità che può prendermi in questa vita è un istinto della felicità futura perché in paradiso c'è la bellezza suprema c'è la perfezione assoluta e anche se io qui non ci sto in paradiso però la mia anima sa di essere fatta del paradiso e quindi queste cose mi nascono spontanee e pur nella loro possibile peccaminosità in questo mondo perché è facilissimo peccare di come dire di di vanità di culto del proprio corpo eccetera eccetera però se uno le guarda in maniera oggettiva di per sé sono spie spie della nostra vocazione alla felicità celeste nel cielo constaterai quanto ti sarà facile modificare la fisionomia e perfino cambiarla completamente per esempio faccio fare una battuta a me piacciono tantissimo gli occhi azzurri se ci dovessi arrivare insomma una prova la facciamo è sicuro ecco vabbè tutto ciò dipende ovviamente dal grado di gloria raggiunto sulla terra attenzione i grandi beati che in questa vita furono grandi cristiani ottengono cambiamenti portentosi nei loro corpi quindi uno può anche sorridere ecco ma se uno aspira a diventare proprio proprio bello 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 quindi a farsi proprio eh deve diventare un grande beato e per diventare un grande beato a molte di queste cose su questa terra bisogna rinunciarci figli core figli core vedi se ti conviene fate un po' dei truccati adesso o lascia perdere le truccate adesso butti tutte quante le maschere nere le offri al signore e dici mi resto al naturale e però poi in paradiso te faccio vedere io altro che tu tocchi le matite come si chiamano tutte quante quelle robacce che usano le donne le cose i rimmel i caspita non sono molto pratico e continua Riccardo e qual è lo scopo ci siamo abbiamo quasi finito non è finito il capitolo ma dobbiamo andare verso la chiusura noi che siamo giunti vicino al limite massimo e qual è lo scopo di realizzare in cielo queste trasformazioni corporali e fisionomiche secondo voi chi non ha mai letto il testo e chi non ce l'ha davanti servono a realizzare moltissimi amori nella patria al meraviglioso modo celeste chi ama si adatta esattamente al suo corrispondente prototipo ideale al suo nome nuovo e alla sua dote di manna segreta gli amanti si completano a vicenda con tutta minuziosità senza concessioni a cose irrimediabili né tolleranze che dissimulano compiono esattamente i disegni di Dio e facciamo un'altra battuta sugli scandalizzatori perché gli scandalizzatori vi riferisco sempre a informazioni arrivate ma ti pare che i disegni di Dio siano tutti questi amori io dico ma dico scusa ma Dio non è amore o no che cosa che cosa regna in paradiso non regna l'amore e che cos'è l'amore capite come i nostri schemi mentali guardate che io se c'è una cosa crescendo negli anni perché purtroppo comincia a essere vecchierello e nel ministero se c'è una cosa che mi preoccupa assai quando tratto con le persone è il vedere le rigidità e gli schemi mentali perché guardate che sono un problema grosso una persona può accampare in galera cioè in galera alla schiavitù forzata privarsi di una montagna di cose belle della vita di informazioni di diletti perché vive prigioniera dentro i suoi schemi mentali che non hanno ragione di esistere e molti di questi sono giustificati soprannaturalmente ma attenzione sono giustificati soprannaturalmente dall'idea soprannaturale che la stessa persona si è fatta dentro la testolina sua e chi l'ha detto che è il soprannaturale oggettivo chi te l'ha detto il confronto anche con queste cose il confronto può anche essere che lo capisco e possa essere anche in un primo approccio problematico o forse anche traumatico ma guai amici cari a chi rimane dentro le proprie trincee mentali e chiude occhi e orecchie a tutto quello che gli le mette in discussione povero lui povera lei che brutta vita che farà a cosa servono queste trasformazioni a realizzare un sacco di bellissimi amori in paradiso ottimo magnifico dice Riccardo i glorificati non hanno bisogno di affacciarsi all'anima della persona amata per mezzo di abili domande né di sottili osservazioni per indagare i suoi gusti ricordate quando una persona conosce un'altra che deve un attimo studiarsela un po' siccome il loro amore è già programmato Dio fa sapere loro in quale modo conviene che trasformino avete capito cosa ho detto fisicamente il loro aspetto personale per incantare la persona amata cioè capito allora esempio e poi ci fermiamo anzi leggo l'ultima cosa che dice Dio della amata perché è uno spettacolo allora cioè se io mi trovo da nel al di là con uno dei tanti amori pensati da Dio per me quando me lo trovo davanti io saprò perfettamente cosa quella persona gli piace di più cosa vuole vedere di me e in me attraverso e sarò esattamente come lei mi vuole e viceversa immaginate se i matrimoni sulla terra fossero così sarebbe proprio ma no strike che vi immaginate e te ne l'amata dice e io concludo e poi ci fermiamo la prossima volta quando si parlerà dei grandi amori che godono i più grandi beati non c'è fascino ingannevole perché questo potere di modificare se stessi se lo sono meritato con le opere con le loro buone opere terrene opere di amore e di carità questo potere è un'attrattiva personale che l'uomo non ha ricevuto gratuitamente come avviene con le qualità ereditarie lo ha ottenuto attenzione buona quaresima a tutti per il cumulo di mortificazioni sofferte in questa vita per contraddire la concupiscenza questo vale per quelli che si scandalizzano la concupiscenza ma è contraddetta anche qui c'è il matrimonio monocamico e basta chiaro e compiere i comandamenti e i consigli del nostro Dio non si vivono queste cose se non si è diventati santi sulla terra questo sia ben chiaro è che così sicuramente ci si scandalizzerà un po' meno bene amici alla prossima e Dio vi benedica e la Santa Vergine a tutti e sempre vi protegga